In Europa bisogna entrare in campo concentrati sul pezzo fin dal primo minuto, tra l'altro il primo tempo con l'Atalanta non è stato nemmeno il massimo, quindi a prescindere da chi giocherà stasera, mi auguro di vedere tanti che ancora non abbiamo scoperto del tutto, da Beltran, Infantino e così via, però soprattutto che fin dal primo minuto questa Fiorentina abbia il coltello tra i denti come ha dimostrato di saper fare per esempio proprio nel secondo tempo con l'Atalanta, però accendere subito il motore a 1000 secondo me dal primo minuto per evitarsi qualche preoccupazione, come del resto ripeto ho capito anche l'anno scorso nel girone, ricordo un avvio di gara degli Arts of Midlothian e di altre formazioni che invece non è da concedere in Europa.